Benvenuti al nostro Tg Sport, cari amici di Telemolise. Per il campionato di Serie D, domenica si scende in campo per la sesta d'andata. Il Campobasso ospita l'Alfonsini. Al Civitelle l'Olimpia agnonese se la vedrà con il Chieti. Ancora prove di 4-3-3 per novelli riposte. Nel cassetto eventuali modifiche tattiche al vestito rosso-blu che potevano essere ipotizzate dopo la sconfitta di Castelfidardo. Il tecnico del Campobasso evidentemente cambierà qualche pedina ma non abdicherà al suo fedelissimo schieramento a tre attaccanti. Da ieri si allena con il gruppo rosso-blu anche il triestino Axel Gulin, esterno d'attacco classe 95 con un passato nelle giovanili della Fiorentina. Lo scorso anno Gulin era in forza al Catania. Lo staff di Novelli lo ha valutato in maniera positiva. Il Campobasso dovrebbe tesserarlo tra oggi e al massimo domani per averlo arruolabile domenica contro l'Alfonsine. Si tratta di un trequartista in grado anche di fare l'esterno offensivo. Insomma si sta cercando di creare delle alternative in attacco laddove le occasioni da gol non latitano mai gol, elemento fondamentale. Evidentemente sì, nel corso dell'amichevole disputata ieri pomeriggio contro il Baranello, il centrocampista Meduri ha svolto lavoro a parte. Lo staff medico del Campobasso farà l'impossibile per recuperarlo in vista di domenica e in atto una specie di lotta contro il tempo. Ma la decisione ovviamente dovrà essere ponderata per non rischiare che il giocatore stesso incappi in brutte ricadute. Certo è che il Campobasso e la qualità del suo gioco non può dipendere da un solo effettivo quale Meduri, ma è altrettanto oggettivo come nelle partite. Senza il giocatore calabrese il Campobasso si è andato incontro a delle sconfitte. Novelli sta meditando a dei cambiamenti di formazione. Li ipotizziamo anche noi secondo le indicazioni avute dagli allenamenti. Potrebbe sordire dal primo minuto chi impala a sinistra, mentre altre variazioni dovrebbero registrarsi in attacco. Toccherà a Sudant o a Improta a accomodarsi in panchina per tirare il fiato. Staremo a vedere. Questione biranè. L'accordo è definitivamente sfumato tra il franco senegalese ed il Campobasso. Evidentemente tra le due parti qualcosa deve essere cambiato un attimo dopo l'arrivo del trasferto del giocatore. La società si mantiene attiva sul mercato degli svincolati e annuncia di voler prendere un altro centrocampista al posto di Biranè. Siamo vicini all'arrivo del trasferto per il difensore centrale Torvic, che da lunedì prossimo dovrebbe essere tra i disponibili anche a livello burocratico. Contro l'Alfonsine per il Rosso Blu ci sarà una specie di obbligo di vincere. Per la prima volta stagionale a Selvapiana i romagnoli hanno fatto un bel balzo in classifica dopo la vittoria interna nel derby contro il Romagna Centro, ma non sono certamente candidati a posti importanti della classifica del girone. A seguire il calendario non sarà proprio benevolo per il Rosso Blu, che a metà ottobre andranno a fare visita alla Vastese, una delle sorprese più liete di questo inizio di campionato insieme all'Olimpia Agnonese. Proprio la Vastese, preparata a livello atletico dal Campobassano Roberto Barrea, domenica sarà ospite del Matelica per quella che sarà senza dubbio la gara più interessante della sesta di andata. Campionato Juniors terza d'andata, in trasferta le due molisane, domani il campopasso di scena a Manfredonia, Lagnone in casa del Pineto. Calcio a 5, errore tecnico dell'arbitro nella gara di Molise Cup, calcio a 5 tra Fossaltese e Frosolone. Secondo il regolamento nella fase eliminatoria le gare, che terminano con un pareggio, sono seguite sempre dai calci di rigore, poiché deve esserci sempre una vincitrice. Il match è terminato 3-3, ma l'arbitro della gara non ha fatto proseguire la partita con i calci di rigore. A questo punto il giudice sportivo ha stabilito che la partita dovrà essere ripetuta a discapito, naturalmente, delle società. Calcio a 5 di serie B, le grafiche dei gironi E ed F. Girone e della cadetteria, Brillante d'Orrino, Casoria, Ferentino, Gymnastic, Fondi, Fondi, Ottaviano, Lido di Ostia, Viterbo, Pratola, Mirafin, Ortona, Salerno, Venafro, Saviano. Raggruppamento F, Calciano e Isernia, Canosa, San Roccoruvo, Chaminad, Cassano, Conversano, Futsal, Barletta, Giovinazzo, Cusmolise, Manfredonia, Sholinzoccher ed Ostuni, Capurso. Ma questo fine settimana prende il via anche il campionato di serie C1 regionale. Arcadia, Termoli, Camarin, Cassiopea, Bunker, Club, Futsal, Isernia, Bonefro, Montenero, Santa Croce, Saracena, Mickey Mike, Sestese, Circolo, La Nebbia, Riposa, La Futsal, Acquaviva. Domani farà il suo debutto casalingo la Chaminade per la seconda giornata di campionato ospite alla palestra Sturzo, l'atletico Cassano. Massimiliano Di Cui, allora, anno zero per te e Domenico Scarnata, la guida della Chaminade è partita la stagione a livello agonistico, però voi avete scelto di presentare la squadra diciamo tra la prima e la seconda partita di campionato. Sì, abbiamo fatto questa scelta, è vero, come hai detto tu, anno zero per questa vendura nella Chaminade e comunque abbiamo fatto altre esperienze in altre categorie, in altri tipi di calcio, però comunque abbiamo cercato di dare qualità anche alla comunicazione, tra la qualità e la comunicazione c'è anche questo tipo di presentazione che abbiamo cercato di coinvolgere sia le istituzioni, sia gli organi a livello nazionale che già ho visto che sono presenti della divisione calcio a cinque, anche perché dobbiamo iniziare a ragionare sotto questo aspetto della comunicazione, del marketing e chi meglio di voi sa queste cose. Certo, una curiosità per te e Domenico Scarnata, insomma sono stati mesi febbrili questi estivi, è chiaro non si può tracciare un bilancio perché praticamente la stagione ancora non è di fatto entrata nel vivo, però insomma è stato un qualcosa di faticoso entrare nei meccanismi di una società di calcio a cinque. No, è stato faticoso sicuramente, poi tutto quello che va fatto molte volte in un anno noi siamo dovuti per forza riuscire a farle nell'arco di due mesi e non è facile strutturare la squadra, non è facile strutturare gli sponsor, il marketing, l'organizzazione, veramente non è stata una cosa facile, però abbiamo lavorato tanto, non nascondo che abbiamo tolto tempo alle nostre attività, alle famiglie, abbiamo lavorato di notte, sperando che questo lavoro sia vero che serve per quest'anno ma noi l'abbiamo fatto con una prospettiva lungimirante, con una prospettiva di programmazione anche per l'anno prossimo e fra due o tre anni. Quindi sicuramente c'è un progetto ambizioso, dunque questo primo anno per voi, per la Chaminade, può essere considerato un qualcosa anche di transitorio, nel senso che puntate alla salvezza, quest'anno probabilmente potrà essere più difficile rispetto all'anno scorso, però può essere un anno di passaggio verso mete più importanti? Sicuramente, guarda, se si lavora bene in qualsiasi società, che sia calcio, che sia un altro sport e si programma, sicuramente poi se si fanno le cose bene, vengono fatte a livello aziendale, nessuno può nascondere che qualche sfizio, chiamiamolo così, ce lo possiamo prendere tra qualche anno, quando ci sarà a disposizione, è una struttura, è un'organizzazione che ce lo permette. Noi l'abbiamo impostato in questo modo, sperando che potrà pagarci da ora nel tempo, sì. Incidente di percorso a Barletta sabato scorso? Sì, incidente di percorso, io ero presente lì, sinceramente è stato più un aspetto mentale, di approccio alla gara, perché sentivo prima anche l'intervista di domenico, effettivamente non erano superiori a noi, la partita per il gran lunga del primo tempo è rimasta 1-0 su un fallo di rigore, quindi su un calcio di rigore, quindi non me la sento di buttare addosso alla squadra a livello tecnico, qualitativo, di gioco all'allenatore, assolutamente. È stata una prestazione sicuramente negativa, sicuramente non ce l'aspettavamo, però c'è anche da dire che sicuramente i ragazzi stanno sentendo la pressione anche di questo tipo di organizzazione societaria. Ed è giusto che la sentino perché si responsabilizzano, però anche loro fanno parte dei cambiamenti che stiamo apportando, cioè il cambiamento dell'approccio di un giocatore verso la società. L'Isernia Calcio a 5 è ospite del Calciano, un centro in provincia di Matera. Il Cus Molise affronterà la trasferta a Giovinazzo, un match interno per il Venafro contro il Saviano. Sabato 15 ottobre lo stadio Cannarsa di Termoli ospiterà all'evento un gol per Amatrice, in campo una selezione delle vecchie glorie del Termoli e la nazionale italiana Attori, gara di beneficenza per recuperare fondi da devolvere alla comunità colpita dal terremoto nel mese di agosto. Domani la conferenza stampa di presentazione dell'evento presso un locale in Marina di San Pietro a partire dalle 16. Il centro M2 di Campo di Pietra ha aperto la nuova stagione con tante novità sia di terra che di acqua. Francesco Mantino, istruttore di palla a nuoto, a mio avviso, insomma ne ho un po' di esperienza di sport, probabilmente è lo sport più duro che c'è. Diciamo che è uno fra gli sport sicuramente più fisicamente prestanti. A riguardo ovviamente abbiamo le basi del nuoto, meglio ancora se è quello del nuoto agonistico, e ovviamente diciamo che è una disciplina che purtroppo nel Molise non ha avuto molto seguito fino ad ora, sarà per una questione diciamo di spazi, acqua, di infrastrutture. E quindi è uno sport che difficilmente ha preso piede ultimamente. Anche perché, come hai detto tu, ci sono veramente le piscine, veramente col contagocce, insomma. Ma qui avete organizzato dei corsi sia per i bambini che per le bambine? Sì, abbiamo dei corsi per maschi e femmine, e diciamo che ci sono dei corsi per gli adulti e per dei ragazzi, quindi con un occhio soprattutto di riguardo verso i bambini, dove possono apprendere quelle che sono le basi appunto della disciplina natatoria e quella della palla a nuoto. Dove abbiamo dei, come dire, delle basi che diciamo in futuro poi possono servire non solo allo sport della palla a nuoto, ma a tutto ciò che riguarda il mondo dello sport. Ovviamente è uno sport di squadra dove si insegna non solo la disciplina stessa, ma quelli che sono i valori della vita e quindi del gruppo, dello stare bene insieme e quindi della sportività. A noi per il momento interessa sì il vincere la partita, ma ovviamente l'obiettivo principale è quello di formare dei ragazzi che si divertano tra loro e che abbiano sempre la voglia di crescere insieme a noi e diciamo in questo ambito, in questa disciplina che è bellissima e andrebbe coltivata molto di più non solo da noi, ma anche nelle strutture vicino alla nostra. Certamente, vabbè, chiaramente la Liguria è leader sotto questo profilo, ma insomma ci sono anche altre regioni dove il nuoto è stato sempre uno degli sport principali, quindi bisogna saper nuotare, bisogna avere delle nozioni di tecnica con il pallone tra le mani e poi bisogna essere anche fisicamente insomma integri perché sottacco, l'abbiamo visto in occasione delle ultime Olimpiadi, insomma fatichi a mantenere le posizioni. Sì, diciamo che le ultime Olimpiadi ci hanno dato una mano al riguardo. Fortunatamente molti ragazzi iniziano ad appassionarsi a questa disciplina, e riguardo alla tecnica noi formiamo appunto quelle che sono le abilità che poi domani i ragazzi potranno comunque usufruire in tanti altri sport, quindi uno sport comunque completo a 360 gradi. Già il nuoto di per sé si suol dire che è uno sport completo, figuriamoci nuotare anche con una palla deve essere il massimo. E poi secondo me, scusami se magari ti faccio questa domanda, però bisogna finalizzarlo anche ad una squadra, perché sai cominciando con una squadra, l'agonismo, partecipando a un campionato evidentemente si migliora. La nostra programmazione a medio breve termine, almeno per quanto concerne i grandi, è quella di partecipare nel giro massimo di due anni ad un campionato di Serie D. I numeri già ci sono, dobbiamo solamente portare avanti questo progetto con molto entusiasmo e quindi riuscire a fare degli allenamenti specifici per poter riuscire poi a fare anche una bella figura, perché non domani. Scacchi è in programma domani il quinto Memorial Costanzo Muccio, torneo semilampo, sistema svizzero a sei turni. La manifestazione si svolgerà presso l'Hotel San Giorgio alle 15, il via alle partite. Calcio regionale al via domani con gli anticipi, la quinta giornata sia in eccellenza che in promozione. Ad un mese dalla partenza del campionato regionale di eccellenza, la classifica vede tre squadre, Cliternina, Pietra Montegorvino e Olimpia Riccia, ancora a zero punti dopo quattro turni. Magari c'è qualche team che è ancora in ritardo, ma questo all'inizio della stagione ci può anche stare. Alla fine però ognuno arriverà a dare il massimo per raggiungere il proprio obiettivo. Quella di domani sarà un'altra giornata di sfide interessanti per le squadre impegnate nella massima categoria, tutti in campo alle ore 15. L'Isernia sarà protagonista di una delle quattro gare che ormai canonicamente spezzano a metà il campionato tra sabato e domenica. Domani a Capriati al Volturno ci sarà l'attesissimo big match tra Macchia e Isernia. Dopo il pareggio con il Vasto Girardi, altra grande del raggruppamento, l'Isernia ha dimostrato di potersela giocare con tutti. A Capriati, il mister di Rienzo spera di poter mettere in campo la migliore formazione, consapevole del fatto che i suoi ragazzi possono giocarsela per il vertice e avrà a disposizione l'attaccante Iabboni che fino ad ora ha collezionato ben otto reti in quattro partite. Però ad attendere il team bianco-celeste c'è il Macchia che dopo l'ultimo successo con il Gambatesa ha fatto capire ancora una volta, casomai ce ne fosse ancora bisogno, di essere pronta per una stagione esaltante puntando con decisione la vittoria dell'eccellenza. Infatti, l'11 di De Bellis solo in vetta alla classifica è l'unica squadra tra eccellenza e promozione che ha fino ad ora ottenuto solo successi. Arbitro dell'incontro, Maria Teresa Travascio di Moliterno. La matricola a Guglionesi, dopo la vittoria con l'Olimpia Riccia per 3-0 nel turno di domani, andrà in trasferta in casa dei campani della Life. I neroverdi dovranno fare conti con una Life che la scorsa settimana è riuscita a rompere il ghiaccio conquistando la prima vittoria stagionale imponendosi per 3-1 in casa del Campo di Pietra. Ora, l'11 campano giallo-blu non può permettersi grossi errori se vogliono portare l'intera posta in palio. Direttore del match, Cosimo Delicarpini di Sernia. Il Venafro, leggermente frenata la corsa a causa del pareggio con il sesto campano, proverà a dimostrare che si è trattato solo di un piccolo incidente di percorso andando ad affrontare il Campobasso 19-19 e l'antistadio Selvapiana. Per gli ospiti, questo match rappresenta un ulteriore appuntamento in una prima fase di stagione particolarmente intensa e probabilmente anche la giusta occasione per ricominciare dopo gli ultimi risultati a singhiozzo. Arbitrerà ai 90 minuti Domenico Castellone della sezione di Napoli. Altro match interessante è quello tra sesto campano e Campo di Pietra. Per i padroni di casa, il mese di settembre non ha regalato tante soddisfazioni. In quattro giornate i biancorossi hanno totalizzato solo tre punti grazie a tre pareggi consecutivi. Sicuramente si può fare meglio. I ragazzi di Mister Cecchino, questa volta, sono chiamati a fare punteggio pieno. Invece gli ospiti, con sei punti all'attivo maturati grazie a due vittorie, dovranno mantenere alta la concentrazione, considerando che gli avversari sono solo a tre lunghezze di distanza. Darà il via alla gara Fabrizio Saluppo della sezione di Campobasso. Infine, per quanto riguarda la cadetteria, si gioca un solo match, ma non per questo meno importante. Dopo i tre punti conquistati con il Volcani all'Oyelsi, si prepara con il morale alle stelle ad affrontare la trasferta allo stadio Ferrante in casa dell'FVP Matese. L'11 di Martinelli, Bois e Yelsi, dopo quattro giornate, si è dimostrata una delle rivelazioni del torneo di promozione. Infatti, lo Yelsi si è guadagnato a pieno titolo il primo posto in classifica, pari punti, 10, con il Boiano. E altra particolarità, lo status di imbattuta nel torneo al pari dei Biancorossi, nonché di Campomarino e Frentania, gli altri due team, che fino ad ora non hanno subito sconfitte. L'incontro con l'FVP Matese rappresenta una gara che, almeno alla vigilia, dovrebbe essere ampiamente alla portata del giallo-blu. Ma bisognerà comunque stare attenti alla forza offensiva degli avversari. Sono ben otto i gol realizzati da Bianco Verdi contro i cinque della Bois. Direttore del match, Pasqualino Fattore, di Isernia. Sarà big match domani a Capriati al Volturno. Il Macchia ospiterà all'Isernia per i padroni di casa, diversi gli ex di turno. Ecco, gran parte del blocco di questa squadra. Lei l'ha allenato a Isernia due stagioni fa, quindi è più di un'arma di vantaggio. Sì, certo. Avere delle persone con cui ho già lavorato, che stanno come lavoriamo, io con tutto lo staff, perché, ripeto, insieme a me c'è Argano, Minichetti, e si è unito anche Nicola Rossi, per cui è un po' più facile, perché determinati lavori tattici non vanno rifatti da zero, ma vanno perfezionati, visto che stiamo lavorando più o meno sul modulo dell'anno scorso, anche se qualche cosa, qualche correzione la stiamo mettendo. Un'ultima cosa, sabato c'è l'Isernia, forse un po' con il dente avvelenato. No, il dente avvelenato no, perché l'Isernia è sempre la mia città, la mia squadra, io ho dato tutto quello che potevo per la squadra della mia città, poi spero che questo sia stato apprezzato, e io dai segni ho ricevuto, forse, contrariamente a quanto poi è stato detto, ho ricevuto anche del bene, perché comunque se oggi ecco, alleno in una squadra vincente, anche grazie all'opportunità che mi era stata data un paio d'anni fa con la vittoria del campionato del Cellenza, l'anno scorso credo che fino a un certo punto della stagione abbiamo fatto bene, anche riportando un po' di gente allo stadio, ricreando quel legame che serviva poi, insomma, tutto quello che è successo si sa, però per me comunque rimane la mia città e non c'era dente avvelenato, niente, c'è solo tanto voglia di fare il risultato. Antonio Di Gregorio, attaccante del Macchia, finalmente è arrivato al primato in classifica. Beh, siamo molto contenti per questo, adesso tocca solo a noi mantenerlo per le restanti partite. Com'è stato l'arrivo nel Macchia? Beh, sicuramente l'ho voluto anche io questo arrivo in questa squadra, la dirigenza mi ha cercato, io ho accettato un progetto valido anche perché sapevo che giocavo con gente esperta e quindi ho accettato sin da subito. Ti è andato anche alla grande facendo questa doppietta? Sì, sì, sono molto contento anche personalmente, però io do sempre il mio contributo e cercando di aiutare la squadra. Un obiettivo che ti sei prefissato per il termine del campionato? Beh, io spero di vincere il campionato, però sarà molto dura domenica per domenica e ci prepareremo domenica per domenica per vincere tutte. Due trasferte consecutive per il vasto Girardi domenica ospite della Cliternina. Luigi Cipriano, centrocampista del vasto Girardi, parlando col tuo allenatore ha detto il bicchiere è mezzo vuoto rispetto all'essere mezzo pieno, tu sei d'accordo? Penso che sia stata una bella partita piena di emozioni, noi credo che ai punti, voglio essere presuntos, ma penso che ai punti meritavamo qualcosina in più perché il primo tempo abbiamo avuto 4-5 palle golle, il rigore, poi loro sono stati bravi a trovare il vantaggio, noi nel secondo tempo siamo stati bravi a reagire, penso che pure nel secondo tempo abbiamo avuto un predominio sul campo, anche se la partita è stata abbastanza equilibrata, bella, purtroppo per noi anche loro hanno dei valori importanti, hanno l'attaccante, mezza palla che tocca, fa gol, Mingione, i vari centrocampisti, comunque sono una buona squadra, è stata una bella partita. non è chiaramente decisiva perché siamo solamente alla quarta di campionato, però è comunque una partita indicativa. Io penso che ogni partita comunque vale tre punti, quindi per chi punta a vincere il campionato non è importante vincere contro l'Isernia, ma ogni partita vale tre punti, quindi è importante vincere tutte. Ultima considerazione, tu stai da Vasto Girardi oramai da una vita, pensi che questa sia la squadra più forte che abbia mai avuto il Vasto Girardi? Ma sì, penso di sì, il Presidente quest'anno ha fatto degli sforzi importanti e quindi noi con il lavoro sul campo dobbiamo cercare di ripagarlo. Prepara la gara del venditti di gamba tesa il Termoli. Giuseppe Mucci da capitano con l'importante quello che diciamo è una liberazione perché il Termoli ha bisogno di riprendere la via del successo, una vittoria sofferta però diciamo meritata. Sicuramente veniamo le due o tre partite poco felici abbiamo perso dei punti importanti peccando di poca esperienza negli ultimi minuti abbiamo buttato tutti i sacrifici fatti nella settimana è andata bene potevamo chiuderla la partita in tante occasioni abbiamo preso i nostri tre punti. Una partita sofferta abbiamo detto bello il tuo gol quello del 2-1 soprattutto perché è arrivato immediatamente dopo il pareggio loro. sicuramente è stato importante ritornare in vantaggio subito dopo purtroppo un altro gol in maniera rocambolesca e quindi va bene così. Tu hai giocato più centrale lui più esterno? Vabbè stiamo trovando l'intesa la prima partita giochiamo insieme dal primo minuto e penso che possiamo fare bene perché abbiamo caratteristiche che insieme possiamo far male alle difese avversari. Con la fascia sul braccio ti responsabilizza più del Normano? Sicuramente è un bel impegno è una bella responsabilità ed è giusto che comunque gli anni sono passati mi prendo le mie responsabilità. Davide Luigi buona moglie tra l'altro supportato anche dai tuoi genitori sugli spazi che ti hanno incitato per tutta la partita grande prova la tua era una partita molto difficile contro una squadra che aveva zero punti. Sì la partita era molto difficile noi l'abbiamo preparata durante la settimana dato che abbiamo avuto un risultato negativo la settimana scorsa e quindi abbiamo visto che per andare avanti bisogna mettere la testa giù e fare meglio settimana dopo settimana e allenandoci bene la domenica si vedono i risultati. Avete sofferto perché sei una squadra molto giovane però alla fine questa sofferenza vi può aiutare anche a crescere per acquisire più esperienza? Sì sì certamente la maggior parte siamo tutti ragazzi e certo ce ne sono pochi di grandi e i grandi devono darci esempio a noi che siamo i più piccoli della squadra e vedendo loro possiamo crescere meglio anche noi. Come sei uscito in anticipo? Hai avuto crampi? Sì sì ho avuto crampi mi sono allenato a 3.000 tutta la settimana e io quando gioco la domenica ce la metto sempre tutta e purtroppo non so quando mancava un quarto d'ora ero svenito. Senti e poi ti chiamo Gattuso dalla panchina dalla tribuna come il ringhio? Sì appena sono arrivato qui senza che io lo sapevo mi hanno dato questo soprannome sono molto contento magari spero di arrivare ai livelli di Gattuso. oggi il comune di Cerce Maggiore ha convocato per le 18 un consiglio straordinario per consegnare a Maria Benedicta Chigbolu le chiavi della città la cittadinanza onoraria per l'attrata italiana specialista nei 400 metri piani che ha preso parte alle Olimpiadi di Rio giungendo sesta con la staffetta 4 per 400 l'azzurra originaria del Molise il nonno materno infatti è di Cerce Maggiore campionato di promozione l'unico anticipo vedrà di fronte il Matese Labboisi-Elsi a proposito della formazione giallo-blu Ricciardi libero Ricciardi c'è nella vista della Labboisi-Elsi di Metazilembo dunque arrivano tre punti in uno scontro contro il Vulcana in uno scontro contro il Vulcana è una partita molto dura e molto difficile sì noi sapevamo che questa sarebbe stata comunque una partita ostica perché comunque loro sappiamo e sapevamo già che erano comunque una buona squadra sia in attacco che sia in difesa una difesa molto solida quindi comunque abbiamo cercato di affrontare la partita con le molle cercando di non scoprirci troppo e stando attenti sempre ad aiutare gli attaccanti per cercare di creare più palle gol possibili quattro partite tre vittorie un pareggio sono un ottimo botti sì ma noi dobbiamo stare con i piedi a terra sappiamo che questo campionato è ancora più difficile di quello scorso quindi noi dobbiamo cercare tutto in casa di non perdere punti e poi andare a giocarci tutte le partite fuori casa seguendo quello che vuole il mister durante gli allenamenti durante la settimana la prima partita fuori casa per quello che dicevi tu arriva proprio sabato su un campo difficile come quello di Piedimondo e Matese contro una squadra con tanti ex che conosci bene sì sarà una partita un po' particolare per noi perché comunque ci sono dei ex compagni di squadra degli amici ritroveremo sabato quindi comunque per noi sarà una partita ma anche per loro da affrontare con le molle però sappiamo che andiamo a giocare su un campo insintetico che a noi ci favorisce e quindi ce la giocheremo a viso aperto Potrà contare ancora una volta sul fattore campo il Baranello domenica arriverà l'FC Molise Antonello Riro possiamo iniziarla a chiamare un po' la maledizione dei calci di punizione sì è stato un peccato una bella partita giocata stiamo vedendo che Boiano era una grande squadra e poi Moriello si è inventato quel calcio di punizione è stato anche fortunato palo gol però complimenti a loro Cos'è che avete sbagliato prevalentemente? Ma siamo stati pure un po' sfortunati con l'infortunio di Paolo Antonio poi Boiano è una grande squadra noi abbiamo preparato così chiuderci il contropiede abbiamo avuto le nostre tre o quattro occasioni una nel finale con Barone non è entrata però ripartiamo abbassiamo la testa e iniziamo a correre Il fallo su Pascarella cosa ne pensi? Ma io ero lontano però ci affidiamo alla buona volontà dell'arbero la vista così va bene così L'obiettivo è che ti sei prefissato per la fine della stagione? Ma noi innanzitutto dobbiamo salvarci poi l'anno scorso è stata una bella esperienza quella di pre-off se riusciamo anche quest'anno bene però l'obiettivo primario è salvarci Per il Castel Mauro domenica la trasferta a Serra Capriola per affrontare la Frentania Primiano Sedile portiere del Castel Mauro una partita con azioni nulle che però vi ha penalizzato anche con il rigore grazie all'errore che è stato fatto da te e dal difensore Cesare Ruffini Sì no diciamo che praticamente non siamo entrati mai in partita non so che cosa sia successo a tutta la squadra parlo da parlo da dal portiere del Castel Mauro come capitano e chiedo scusa a tutte le persone che erano sulle tribune per la la bruttissima prestazione della diciamo della squadra no per quanto riguarda l'errore vabbè forse Cesar aveva calcolato male la forza del pallone io per andare a rimediare poi alla fine ho ritirato anche il piede per non gravare diciamo sulle decisioni arbitrali meno male che non mi ha nemmeno ammunito nulla quindi vabbè è andata così mi dispiace per il risultato cercheremo cercheremo dobbiamo fare meglio domenica prossima mi sembra contro la Frentania Castel Mauro che non riesce a trovare una coordinazione tecnica e psicologica no ma secondo me non è non si tratta nemmeno tanto del fatto tecnico psicologico è una questione che il mister comunque ci fa lavorare bene durante la settimana prova tante cose che noi in allenamento poi praticamente dovremmo mettere in atto la domenica però poi la domenica arrivi al campo e non è così cioè non è una questione che si dimenticano le cose perché non io non me la so spiegare non lo so è brutta partita delusissimo diciamo della prestazione di tutti quanti e purtroppo dobbiamo rialzarci e andare avanti con le forze nostre e soprattutto per non dare diciamo un dispiacere alla società che fa tantissimi sacrifici per farci giocare a calcio ed ora la nostra rubrica il cartellino rosso e va e va va avanti tu che adesso c'ho da far sarai la mia metà ma si non parti diventi in altro bollamia tre quarti e va e va non puoi saper piacere che me fa magari qualche amico te consola così tu fai la scarpa e lui te sola io te ce m'anno sola io te ce m'anno sola solo senza te calcio giovanile la scuola calcio guardia al fiera ha preso parte all'evento organizzato dall'NDB San Giacomo un momento di crescita e confronto per i piccoli atleti Luciano Fallucchi responsabile della SD guardia al fiera settore giovanile anche voi con i pulcini a rappresentare la cittadina di guardia al fiera in questa manifestazione questo quadrangolare importante perché è stata l'occasione per socializzare un po' per tutti i ragazzi e soprattutto per i bambini che si stanno avviando questo sport sì infatti voglio ringrazire che ogni manifestazione che lui organizza ci tiene in considerazione e per questo i bambini accettano volentieri a venire a giocare e così continuano il loro cammino verso questo sport guardia al fiera sta rispondendo alla grande soprattutto per i ragazzi perché comunque il calcio sta ripartendo sta ripartendo dalle basi questo sicuramente è un pezzo importante per poter ripartire e infatti quest'anno la scuola calcio del guardia al fiera si incrementa ancora di più con un'altra squadra i giovanissimi che negli altri anni avevamo non le avevamo invece quest'anno con con quest'altra squadra riusciamo a incrementare di più il calcio giovanile a guardia al fiera voi siete anche forti perché avete una bella struttura a guardia al fiera si infatti abbiamo una bella struttura campo in erbo sintetica e i bambini si possono divertire nel miglior modo possibile bravo basket di serie B domenica debutto casalingo per la seconda di campionato il Globo Isernia ospiterà il Bisceglia il Venafro se la vedrà con il Campli palla 2 alle 18 in Cisilber parte in trasferta la stagione dell'Aerino Termoli che domenica sarà ospite del Torre dei Passeri palla 2 alle 18 Burraco il secondo trofeo città di Campobasso richiamato in Molise tanti giocatori provenienti da diverse parti d'Italia sul livello della manifestazione il commento di uno degli arbitri Tommaso Sagese arbitro nazionale del Torneo Città di Campobasso giunto alla seconda edizione circa 160 i giocatori partecipanti a questo torneo di Burraco per il Molise anche visto che lei è a un livello nazionale è sicuramente già un buon risultato si ha detto bene per il Molise perché non è solamente un torneo a fine a se stesso ma porta persone da tutta l'Italia in più o minor numero ma comunque che vengono da tante città italiane a visitare la città oltre che a fare il torneo la mattina è libera quindi possono fare escursioni e possono anche decidere di ritornare a fare vacanze a rivederlo per quanto riguarda anche i giovani che si avvicinano a questo sport perché poi alla fine siete affiliati anche al CONI quindi è effettivamente uno sport come si avvicinano i giovani? Devo dire che negli ultimi due o tre anni sto ravvisando un aumento costante di giovani che partecipano e lei può verificarlo girando per i tavoli e vedrà che ci sono parecchi giovani se per giovani intendiamo gente da tra i 20 30 anni mentre ai primi tempi devo dire che eravamo di più 50 anni evidentemente l'interesse per questo gioco è aumentato e diciamo stimola la fantasia e porta a viaggiare ricordatevi che quando si fanno i tornei chi organizza fa un pacchetto anche per l'albergo se io dovessi venire privatamente in questo albergo pagherei una cifra sicuramente molto più alta con i tornei non solo mi vengo a divertire giochi posso vincere ma sto in un albergo 4 stelle a minimo a metà prezzo quindi diciamo che conviene possiamo dire che c'è il torneo definiamolo ufficiale come campionato italiano poi ci sono questi altri tornei per l'appunto che sono ufficiali però anche soprattutto promozionali di questo sport e per il turismo come ha detto lei quindi c'è un grande lavoro alle spalle non solo della federazione ma anche delle singole società assolutamente sì io infatti ammiro e apprezzo il lavoro dei team perché io chiamo così perché non un solo presidente dovrebbe essere un dio per fare tutto da solo ma deve avere a fianco a lui soci vicepresidenti che l'aiutano perché le sfaccettature di un torneo sono mille devono pensare a tante cose dunque se non fossero supportate da altre persone che amano questo gioco alla stregua del presidente non si potrebbe fare sinceramente è molto oneroso come fatica però il finale è questo che la gente viene si diverte e stiamo tutti bene bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio